Ciao amici, un nuovo appuntamento sul nostro canale YouTube, a proposito iscrivetevi al canale se vi piacciono i video e continuate a mandare commenti perché noi poi grazie a vostri commenti creiamo anche dei nuovi format magari. Oggi partiamo con un nuovo format che si chiama Febbre a 90 gradi, inviteremo degli amici, dei professionisti che ci racconteranno un po' la loro storia da difosi e oggi partiamo con un grande amico, sono contento che sia un mio amico oltre che un amico del canale YouTube, forse il più grande stand up cominia di tutti i tempi lascia fare che lo dico io, non lo dici tu, lascia fare che lo dico io. Signori e signori, per l'Inter, Luca Ravenna. Ciao Luca, Luca Ravenna. Come stai Fabio? E oggi qui con noi, vorrei iniziare proprio con una frase del libro di Febbre a 90, per chi non lo sapesse Febbre a 90 è un libro che direi è stato letto da diverse generazioni, siamo a fine perché è un libro di Nick Corby, un romanziere inglese, parla della sua passione per l'Arsenal, sfrenata ed è stato un libro che ha un po' segnato l'idea del tifoso, il sentimento, è un libro bellissimo il Fever Pitch ed è bellissimo anche il film, quindi se o l'uno o l'altro potete vederli o leggerli io vi consiglio di leggere il libro perché ci sono tutte le classifiche che fa lui, parla di musica, insomma, è veramente molto bello. C'è una frase nel libro Febbre a 90 dove si dice che per diventare un tifoso di calcio ci vogliono anni, ma se ti applichi ore e ore entri a far parte di una nuova famiglia, solo che in questa famiglia tutti si preoccupano delle stesse persone e sperano le stesse cose. Quando hai capito di essere entrato a far parte della famiglia sei un uomo felice. Tu quando hai imparato e quando hai capito di essere entrato a far parte della famiglia. Secondo me c'è un momento molto preciso allo stadio, quindi di solito si va col papà e nella vita se un papà ci tiene non vuole che tu dica parolacce, ma allo stadio vedendo lui, vedendo gli altri, c'è un momento intorno a 9, 10, 11 anni in cui prendi coraggio e dici una porcata orribile a qualcuno e percepisci che lì puoi farlo. Il tuo padre è anche un po' orgoglioso. Nei limiti, poi c'è un momento in cui scavalli e vai oltre la parte animale del tifo, però quello è un momento in cui dici ok se posso dire questa vacata e lui è contento, allora faccio parte della famiglia. Perché passi gli anni prima ad aspettare avere il coraggio di dire qualcosa di più. Tendenzialmente essendo interisti ai tuoi, questa è la cosa. C'è un trend sui social che mi piace tantissimo, sono le immagini di questi papà che portano per la prima volta il bambino allo stadio. Tu te lo ricordi le note? Sì. Interparm, nel 92 avevo 4 anni rotti, ho dei flash, nel senso mi ricordo il fatto che San Siro era il luogo più enorme che avessi mai visto nella mia vita e sentire così tanti, la voce dello stadio è più maschile e femminile, quindi questo boato emotivo di uomini che urlano, mi ero spaventato da morire e mi ricordo che andavo volentieri perché potevano prendere il gelato, questa era all'inizio la cosa, poi piano piano. Era purissima porruzione poi la prima parte. Sì, all'inizio, sì, sì. No, lui vedevo che ci teneva e poi era l'unico luogo emotivo in cui lo vedevo muoversi e quindi dicevo che questa cosa dell'Inter è importante e da lì poi ho diventato più mio e di mio fratello e lì ho detto basta, poi sono andati per i fatti non astrivi. Però è bello, è bellissimo secondo me e poi io dico sempre, dico spesso che sono innamorato dello strescione dell'Iverpool, quando c'è Yoneo e Wocalone sale questo strescione con papà e figli di schiena che si tengono per mano. Yoneo e Wocalone, strescione e io e Beppe che prangiamo. Questa è la cosa classica di Anfield Road e non è Beppe, perché poi adesso è anche madre figlia, padre figlio, non è più padre figlio, però è proprio una trasmissione, una trasmissione culturale anche. Ma sì, ma poi essendo emotivamente, diciamo parlando per cliché, molto compressi gli uomini, lo stadio, questi luoghi dove c'è uno scontro chiaro, bianchi contro i neri e così è un posto in cui ti lascia andare e quindi ti colpisce, anzi tendi a volerci andare perché poi siamo animali emotivamente coinvolti anche noi e lì è proprio l'uomo. Sì, certo, poi ho visto mamme con figlie, ti vedi tutto, bello è quello. Viecchio Toneri tipo Guelfi e Ghibellini, perché purtroppo adesso negli stati ci sono anche altre cose che io veramente non capisco più, non le sopporto più. Però io quando ero piccolo, la rivista dei vecchi servizi della Rai degli anni 90, che c'era la curva Nord dell'Inter molto molto di destra, c'erano gruppi molto aggressivi, nelle sintesi erano i cronisti che dicevano tipo 0-0 orribili in squadre terrificanti, nella sintesi i soliti faccino rosi, erano degli skinhead che si prendevano a cinghiate nel secondo round, i soliti faccino rosi che poi si andavano avanti. Sono scena che adesso allo stadio è difficile, le vedi poche poche volte, gente che si prende a cinghiate allo stadio. Ma è bene a sottolinearlo, perché spesso c'è questo concetto molto italiano del si stava meglio quando si stava bene. Io quando ero piccolo mi ricordo che c'erano delle zone dove non andavi, faceva molta paura, i tornelli e tutte queste cose, sì il controllo sociale bla bla bla, però è ovvio che tendere a far convergere le persone per i vari settori aiuta molto. Poi sono dinamiche che sfociano nello stadio ma che hanno a che fare più con le città. Io penso che andavo allo stadio negli anni 70, negli anni 70 c'erano morti, proprio banalmente era così. Quindi a colpo del tuo interismo fondamentalmente il tuo papà. Sì, il suo papà prima di lui che non poteva andare allo stadio perché a un certo punto aveva dei problemi di cuore, non andava a vedere la grande Inter, abitavano a 500 metri allo stadio. Quindi sì, era proprio una nobiltà nera azzurra queste cose. Non è mai stato concepito nell'idea di nessuno in famiglia che ci fosse un'altra squadra in Lombardia, in Italia. Era solo Inter. Da piccolo l'unica cosa che ho visto che ho condiviso da molti è che la Juve giocava in Champions al mercoledì. E comunque la Juve era fortissima quella di Lippi che poi vinse la Coppa dei Campioni. Mi ricordo che la guardavo con uno spirito allora molto sportivo. Cioè dicevo guarda che forte è questa squadra italiana. Poi alla fine ero gioco in maglia blu con l'Ajax quindi quando sei piccolo ci vuoi farti un attimo capire. Quello è stato l'unico momento di sportività penso della mia vita. Tu quando eri piccolo, io adesso con le maglie che ci hanno quando iniziamo le partite mi faccio fatica io a capire quali sono le squadre. La maglia deve essere una e due, basta. Cioè quella normale, poi ce ne può essere una che dà sul nero, però deve ricordare un po' la vecchia cosa dei calzettoni, poi gli scontri che devono essere i colori opposti, però non è difficile. Chiaramente scuro, chiaro, basta. Sono d'accordo con te, capisco anche dal punto di vista commerciale, marketing, anche se non so poi quante se ne vendono le maglie verdi. L'ultima volta che sono andato a vedere il derby, quando mi è vinto 5 a 1, ho visto un ragazzo del Milan in bici con la maglia rosa e azzurra. Si può andare a giocarti il derby con quella maglia, un po' più esperto, un divertimento. C'è un treniere. C'è un treniere. Poi ci rimane male, anche noi abbiamo avuto la maglia rossa, è stato un momento. La maglia rossa, perché è proprio una cosa spettacolare, con la maglia rossa se le avvicini al nero. Sono cose stupide da bambini per cui ti arrabbi molto. Sì, però secondo me ci vuole anche il rispetto di questi un po' sentimenti qua nel calcio. Perché poi il colore, o la maglia, nel calcio si dice la maglia e la maglia deve avere quel colore. Eh sì. Chiediamo scusa a tutti gli sponsor delle squadre, ma noi in questo siamo un po' vecchia scuola, decisamente vecchia scuola. Secondo te cosa c'ha di Milano l'Inter? Perché sai, l'interista dice l'unica squadra di Milano è lì, il milanista dice l'unica squadra di Milano è il Milan. Come succede a Roma, a Genova, a Torino dice uno. Ma no, essendo San Siro l'unico stadio che fino a giugno ha ospitato due squadre campioni d'Europa nella storia, poi adesso anche il City, anche se è un altro stadio, Manchester e così cos'ha. Se obiettivamente l'Inter nasce da una costola del Milan, non esiste l'una senza l'altra, il Milan è la squadra di cui so di più in assoluto dopo l'Inter e spesso così per le nuove, perché ha due squadre, la coesistenza di entrambe, cioè il fatto che loro siano i tramvieri e come usava, ho scoperto un tempo, i tifosi dell'Inter in molto retta, perché erano più borghesi, quindi andavano per la Vespa. O la Lambretta allo stadio, Milano si è fatta di queste cose insieme, io sono pro tenere San Siro, mi piace l'idea che le due squadre abbiano, e che poi durante il derby si conviva in modo relativamente, anzi civile. Sommai da anni a Milano si è iniziata. Tutte e due fanno parte, senza una non ci sarebbe l'altra, il piacere di vedere perdere gli altri, il dolore di perdere e vedere gli altri. Ma tu eri uno che da bambino quando tipo l'Inter perdeva per esempio i derby così, prima di andare a scuola lunedì ci pensavi un attimo perché c'erano i compagni milanesi? Ma io sono andato a scuola dopo il 5 con il giro al liceo, dopo quello i derby passano proprio... No, no, sì, passi un brutto intervallo, poi nel mio anno ero l'unico, facevo il classico, quindi c'erano molti meno ragazzi, l'unico interista del gruppo, però ti crea una bella scorza. E in bar invece, se uno che è frequente e che è ancora al bar dello sport... A Milano, un pub bellissimo in via Cortatone, non faccio nobile perché... No, vabbè va. A Massimo ci mandano una birra. Però anche lì sono, soprattutto milanisti, ma anche interisti, a me piace questa cosa di Milano che ci si prende molto in giro in modo soft, diciamo. Che era così anche Roma prima, cioè era spietata nella presa per i fondelli. Poi c'è stato un periodo invece molto duro che ogni tanto ritorna. Devo dire, io ho vissuto tutti i derby d'Italia per professione e devo dirti che ho trovato sempre che a Roma c'era proprio un pizzico di cattiveria in più. Al derby di Milano, cioè Roma è una roba proprio molto sentita, anche in alcuni momenti pesante niente. Vivendo lì, sì, sì, un po' too much, devo dire. Ovviamente intera e Milano ho sempre giocato anche per obiettivi un po' più grandi del derby. Quindi ovviamente, cioè, gli anni in cui, Prisco diceva, gli anni in cui conti solo i derby vinti sono gli anni peggiori. È vero. A Roma è capitato spesso, devo dire questo, perché spesso proprio il derby era la stagione. Ovviamente se vincere il derby era la stagione. C'è qualcosa secondo te che differenzia un po' il tifo dell'Inter, non so, dal tifo del Milano dal tifo della Juventus? Adesso c'è forse più rivalità con la Juve, a dire tu e col Milano. Secondo me c'è sempre comunque, cioè io e il Milano, con la rivalità è sempre con il Milano. Con la Juve sì, ovviamente c'è solo le due, c'è il derby d'Italia fra Inter e Juve, l'altro è il trofeo Berlusconi in amicizia. No, noi ci facciamo vanto di essere nemici di entrambi. Però, boh, nel senso, nessuno ha mai battuto la Juve stando punto a punto in campionato. Romo e Lazio sono le ultime due persone negli ultimi 30 anni, quindi è una rivalità dove alla fine la perdi sempre. Col Milan, quando ci siamo giocati lo scudetto, l'ultima volta, due anni fa, che Milano ha vinto, è stato terrificante, ero allo stadio. Non so, ma sì, insomma... Ma c'è qualcosa che secondo te ti identifica come tifoso interista rispetto al tifoso milanista? Allora, adesso, boh, c'è tutte le robe che c'è un inter... Io ho vissuto nell'era di Moratti, quindi, che era molto legata a un certo tipo di Milano, un certo tipo anche di idea politica di un tifoso in primo rosso, contro la curva che è un primo rancio, che è la tribuna Morfeo, che è la cosa più intelligente che abbia mai detto. Un giocatore, Mimo Morfeo, disse, ma questi del primo rancio vengono a scaricare la frustrazione di quando litigano con la moglie. Molto aggressivo, ho detto da uno che non era proprio Luis Suarez, però non aveva torcia. Cioè, nel senso, il primo rancio dell'Inter è molto, molto connotato. Infatti, si dice spesso che quello succede anche un po' al Milan, ma ogni tanto... So, c'era Sedov quando ha giocato tutti e due, quando giocava a Milan, quando lo fischiavano lui... Perché poi San Siro, si sente, soprattutto interista, quando dovrebbe andare sotto, dovrebbe andare sotto. Diciamo che l'Inter è una squadra che i tifosi hanno molto bisogno che la squadra trascini in pubblico, ma per tanti anni è stato così. Il Milan, storicamente, soprattutto negli anni della Fossa, era proprio un concerto di tifo enorme. Negli ultimi anni, 10-15 anni, è un po' messo sullo stesso livello. Però, comunque, io so che per il giocatore, lo dice sempre Beppe, che per un giocatore che è preso di mira a Milano diventa impossibile. Infatti, storicamente, noi abbiamo un problema di terzino-sinistro, tutti gli anni, fino a Roberto Carlos. Di solito, quando inizia la partita a San Siro, l'Inter attacca verso la curva sud. Se tu ti fai il primo tempo da terzino-sinistro contro il primo arancio, tu, dopo 45 minuti di insulti, è un bel casino. E non è un caso che, infatti, c'è Facchetti, c'è Bremi, Roberto Carlos un anno in un'Inter disastrata, e poi ce l'ha voluto per trovare quelli buoni. Mi sono fermato a 23 sostituzioni. C'è stato un periodo che, quando facevo le partite, le contavo. Perché a sinistra, chiunque. Io, adesso, magari sbaglio, però avere uno che ti distrugge dalla prima rimessa laterale che fai, cioè, comunque, lo senti. Quando vai a stanzione in campo, li senti, ma li vedi bene le facce. A un certo punto, mi sembra che c'era uno messo poi Bergo, ma perché almeno Beppe lo lasci tranquillo. 1.800 fanti, pistoni, tanti che... E per cui ci sono proprio gli anni post Roberto Carlos. Beh, adesso è un po' meglio. Dai, 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 dai. Di Marco diventava una bandiera, un idolo. Però, beh, quella è una bellissima storia. Stupenda storia di calcio. Un ragazzo fruttivendolo, porta a Romano, si fa il giro, viene a fare gol a San Siro. Stupendo gol, e poi viene a giocare. Bellissima storia. Ecco, queste sono, secondo me, proprio le storie che poi i tifosi piacciono, perché lo senti proprio uno tuo, no? Sì, e poi all'Inter questa cosa, cioè l'ultimo milanese, è stato Bergo, mi credo. Magari mi sbaglio, c'è stata qualche punta di quella che giravamo, che è nato a Milano, ma l'ultimo vero interista di Milano è Bergo. Che salutiamo? Ciao, Beppin. Che nasce Milano, io sappiamo. Però poi, sa, banalissima. Ma poi hanno la bandiera subito dell'Inter e con delle prestazioni, vabbè, insomma, lo sappiamo, ha vinto per tutto questo. E poi dopo, infatti, in effetti, se ci pensi, l'idolo dopo è Zanetti, che è milanese d'adozione, ormai urge, tipo, insomma. Eh sì, veramente. Questa cosa ti riempie l'orgoglio, cioè, noi veramente pochi ne abbiamo, pensa a Roma, quanto ci si tiene al Romano e al Romanista o di Canio alla Lazio. Sì, anche se adesso Pellegrini, che è il capitato della Roma, lo stanno massacrando. Io ti dico, sono un po'... Cioè, l'idea che un giocatore possa giocare contro un allenatore e quindi contro anche se stesso, perché poi in vagli europei non cresci come cagliere, una cosa veramente barbara. E poi dico anche, se Pellegrini è tornato a fare gol, a giocare bene e poi a giocare male, sarà mica solo colpa sua. Ma no. Perché non lo era messo. è un po' ha influito. Allora, io ti dico adesso delle date e tu mi devi dire cosa significano queste date. Alcune sono un po' dolorose. Come tifoso e quali sono i ricordi che hai avvisato? Prima l'hai già citata, 5 maggio 2002. Eh, ero allo stadio, ero all'Olimpico. Era la prima volta in cui andavo, diciamo, da cosciente a Roma. Con mio padre abbiamo fatto viaggio in macchina. Abbiamo dormito a Orvieto da un suo amico. Io ho rimesso tutti i vestiti che per sei giornate, da quando battemmo la Roma in casa, una delle partite più belle della mia vita, avevo sempre gli stessi identici vestiti. Da mattina abbiamo messo come se fosse dovuto scendere in campo io. Siamo arrivati dal nord a un bellissimo viaggio sul formato che per la Gazzetta una signora di Roma diceva «Ma ci stanno i lanzighinecchi?» Perché stiamo scendendo? A Roma? Siamo andati, in mezzo tutte le macchine con le bandiere, siamo andati al caffè Euclide con un amico di mio padre, lazialissimo, e abbiamo preso una brioche. Euclide, perché non c'è più a Roma, è a Piazza Euclide che è proprio, diciamo, sopra lo stadio, ai varioli. Sopra lo stadio. Abbiamo fatto il ponte, siamo entrati allo stadio, c'erano i nemici di mio padre che dicevano «Sono più teso che la maturità», cose così. Io ero abbastanza tranquillo perché la vittoria 3-1 con il Piacenza, con le due punizioni di Ronaldo e Coppa, non avevano messo, avevano fatto i calcoli, erano in Montemario e la cosa che ricordo in modo molto chiaro era che facevamo un caldo tremendo e i giocatori avevano la felpa dell'Inter. E era un po' quella cosa, per cui dici «Ma ti rendi conto di dove…» «Cioè, ti sei quando che ci sono 30 gradi o state…» E infatti dopo, quando escono dal tunnel e Cooper gli dà quella pacca sul cuore, vedi che nello sguardo sembrava un drogazzo, era qualcosa che non andava nell'aria, ma da qui a immaginare che avremmo perso. E comunque, io gli highlights non li ho… C'ho messo un bel po' a vederli. Che è? Beh, un dolore così non l'auguri a nessun tifoso. Questo è proprio febbra 90, impurezza. Sì, perché uno che non è tifoso non lo riesce a capire. No, no, no. Peggio di quando te lascia una donna che ami. È molto peggio. Cioè, lo vedi come un tradimento proprio della storia quasi. Come se il mondo ti si rivoltasse corto. Sì, perché tu metti così tanta energia e tempo che spendi. Mi ricordo in chiesa quando andavamo a una messa, c'è un momento della preghiera, io chiedevo, ti prego, se ci esisti lassù, uno scudetto, non ti sto chiedendo altro. quello è ed è una cosa condivisa, vedi, dolore inspiegabile al gol di Simeone nel tra due e qui è finita. Tu eri giovane, io già faccio vedere cronache, io ero a Torino perché era un arrivo a tre, che tra l'altro voglio dire, forse se la Juve, perché la Juventus andò subito in un vantaggio 2-0 con l'Udinese, ma se ve la dovevate giocare con la Roma per lo scudetto, non credo che diciamo lo stadio sarebbe stato così contento di vincere, quella partita sarebbero divaduti l'Inter. A inizio partita la Lazio era tutto, i tifosi erano molto per noi, c'erano degli striscioni terrificanti sui tifosi famosi della Roma, verso la fine ricordo c'erano questi tifosi molto borghesi alla Lazio che dicevano vabbè ma che ci frega, l'importante era che non vincesse la Roma e questo è stato tutto il recente su mamma mia. Sai che ricordo anche lì, io mi ricordo che vedi la conferenza stampa di Cooper prima della parte, io sono molto attento a quello che dicono gli allenatori perché secondo me comunque in conferenza, prima era un po' meno così, adesso tantissimo, conferenza stampa fanno passare dei messaggi, all'esterno e io mi ricordo Cooper secondo me con grande ingenuità gli chiese ma voi avete paura e lui rispose certo che abbiamo paura. l'allenatore che dice una cosa del genere è finita. Io mi ricordo la stavo vedendo un dei grandi sforzi alla conferenza stampa e dici sai che brutta cosa che ha detto perché quelle sono cose proprio ah c'è l'immagine di Moratti che fuma una sigaretta gli danno una pacca sulla spalla e quello più o meno è quello che abbiamo fatto tutti noi. Io mi ricordo mio padre non mi ha detto niente perché comunque ecco dicendo il padre e il figlio questa roba tu fai tifare una squadra a tuo figlio e poi poi gli fai così mi ricordo però questo poi evito di commuovermi però tipo a fine serata alle due e mezza di notte a Milano arrivati col portiere del garage che ci ha detto dottore abbiamo perso mamma va che mi ha detto tipo si si vincerà a quel punto poi sono tipo crollato in lacrime il giorno dopo sono andato al liceo e lì è stato lì è stato tifoso poi è che Milano non l'ha mai vissuto si ha perso a Verona due scudetti ma il Milan è un Milan fortissimo poi quello del 90 l'hanno perso per la monettina la Juve si ha perso a Perugia ma è la Juve l'ultimo scudetto l'ha vinto due anni prima quindi siamo noi che abbiamo creato questo forse la Roma quando ha perso la Coppa dei Campioni con i rigori sbagliati e la partita con lecce perché poi a Roma c'era stata la grande rimontata di Eriksson e fecero giro il presidente con il sindaco che lo ringraziava prima della partita e anche lì io dissi mi ricordo che già lavoravo e lì erano i primi anni in cui lavoravo guardai questa cosa e dici Uwe passi ma pure Napoli quando ha battuto la Juve con il gol di Koulibaly e 10 vuoi dati di pire però il tifo a volte questa cosa si sgorga fuori invece su questo io sono molto ci è finché non finissi a l'arbre finché non c'è la Coppa in mano mamma neanche finché non sono tornato a casa e ci sto ripensando non è mai accaduto 22 maggio 2010 era Madrid sono andato ero in quarto anello ma io fra te ah se era vabbè questa la si mette sempre insieme al 5 maggio perché tutti la usiamo come quando ti dicono 5 maggio c'è anche chi dice 5 maggio la Coppa Italia con la Roma quella mattanza di partita che fu che si sono vendicati dello scudetto che abbiamo vinto noi del calcio di Totti a Balotelli il 22 maggio era il quarto nel mio fratello il primo gol di Milito sono svenuto secco sulla Bola Austria è perché non ero abituato di vincere un altro gioco bam così e mio fratello ha preso una Coca Cola mi ha fatto ripigliare mi ha detto guarda che va seguita sta partita mi ha avuto mal di testa tutto il giorno stavo malissimo non ero l'idea di vincere la Coppa dei Campioni non fa cioè ti sbarrellavano sì ma e c'era quella sicurezza di cui parla Mourinho con Materazzi effettivamente eravamo molto Bayer non era forte non eravamo focalizzati ecco qui puoi spiegare una cosa che secondo me possono spiegare sono i tifosi che hanno tifato una squadra di Mourinho perché no sì è vero allora i tifosi della squadra di Mourinho amano Mourinho tutti gli altri lo detestano poi fondamentalmente io ho anche detto che secondo me lui ha utilizzato lo stesso tipo di comunicazione 13 anni dopo il mondo era cambiato si è vero se l'ha accorto un po' tardi al sicuro se l'ha accorto proprio parlo di comunicazione non parlo di gioco cose quello a me mi interessa un po' di meno però riesci a spiegare perché veramente ti crea un'anima particolare no all'interno fa proprio gruppo voi di voi lui sì lui ti crea questa cosa del tutto contro tutto contro tutti che è effettivamente è proprio quella cosa quella forza che ad alcune squadre naturalmente manca all'inter un po' è sempre mancata alla alla Roma anche diciamo quella durezza la capello e poi il genio della comunicazione le squadre come giocano dipende troppo dai soldi che vengono messi cioè è proprio tutto qua e Moratti ha dovuto mollare poco dopo per i soldi che ci ha regalato che si è regalato però è vero che ti metti dietro di lui e dici ripensarci adesso è una roba delle manette quella roba lì era follia totale però lì per lì è tutto vero è tutto giusto è tutto stupendo zero titoli tutte queste cose tu segui per questo cioè io penso che un tifoso segua anche per immedesimarsi e la cosa più bella è vedere i tifosi degli amici del Milan che dicono che lo odiano e sparerebbero per avere un allegatore così bellissimo Leonardo il contrario bellissimo persona stupenda si amore 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 sentimento esatto Leo ciao amore sentimento ed ero molto geloso quando è andato alla Roma ovviamente perché proprio io viva a Roma quindi lo sentivo molto sono contento che sia andato via sì basta a Roma perché poi in effetti una parte dei tifosi non lo dice proprio apertamente però pensava che fosse arrivato un po' alla fine del ciclo una parte dei tifosi d'Europa eh sì ma diciamo però ha portato la squadra a fare delle cose che nella sua storia aveva fatta due volte e due volte era andata malissimo in casa quindi proprio 70.000 persone fissa all'Olimpico per vedere una Roma che giocava non bene e questo è Amuri l'effetto bellissimo suo stupendo e noi dal tripleto in poi comunque l'Inter e il tifo è sempre più o meno tranne forse l'Inter di Mazzarri per me la peggiore che abbia mai visto nella mia vita ce lo diamo Walter però eh queste sono le cose dove fai giocare a Zanetti l'ultimo derby per me non voglio mai più avere cioè bruttissimo derby perso male fai entrare 5 minuti anche per l'applauso del Milan Maldini perse il derby venne sotto la curva narda da applaudire sono stupida la tematica cosa vado allo stadio a fare se non per queste leggende per vedere cosa che fa manca il tempo lui è proprio terribile e l'Inter gli tifosi non hanno più mollato l'Inter proprio ho cambiato il modo di tifarla da Mourinho in poi dal tripleto in poi sì perché che è appartenenza cioè la sua appartenenza poi ovviamente il suo conto in banca alla fine però è bravissimo nel raccontare questa favola cioè se hai tatuato la conferenza di cui è una follia completa lui che ha vinto la Coppa dei Campioni con la Ligia totale però però follia erano 300.000 persone nel circo cioè follia da un lato ma è bello perché tifi per quello 2 maggio 2021 l'Inter come in Liverpool ha vinto il suo ultimo campionato senza i tifosi che beh non è bello però è stata una bellissima vittoria io in Portogallo che c'era il compleanno dei 30 anni di mio fratello l'abbiamo visto lì poi noi abbiamo pareggiato col Crotone e è vinto poi il giorno dopo è stato emozionante e strano però come tutto quel periodo storico del Covid però Conte è un allenatore ecco lì è stato un peccato non avere che Conte è un altro di quegli allenatori che è compatta sì con il suo vissuto questa è una bella lezione anche diciamo in genere per noi tifosi cioè Conte è il più gobbo dei gobbi proprio uno che il 5 maggio diceva non c'è niente da fare stiamo godendo e cosa deve dire il capitano della Juve come poi si è trasformato aveva adorato il litigio per Andrea Agnelli è stato bellissimo perché me l'ha liberato e poi comunque un allenatore anche lì si è speso tanto avevamo due fuori classe a Kimi in particolare era cavallo da tiro pazzesco Luca perché l'altro interissimo non lo nominate quasi più Luca è un braccio mi spiace però è stato un bel campionato poi è andato via così è stato un peccato però zona tra pattoni come si dice sì bravo quella roba lì adesso andrà a Milan mi pare si dice lo fate tutti ci sono quelli che hanno fatto questa cosa delle tre grandi tradizionali c'è uno solo che ha amato da tutti che è Baggio e pochi altri hanno questo il giocatore che hai più amato in assurdo dell'Inter o dell'Inter sì allora quello che mi ha messo sulla cartina del Tiff è tutto ovviamente a Ronaldo cioè l'idea che per un bambino arrivasse questo Marziano all'Inter ma perché è inspiegabile quella roba è Ronald il primo momento di Ronaldo è quello che ti dice io lo dico sempre che per chi l'ha visto giocare ragazzi Ronaldo il fenomeno nel 98 cioè quell'anno quello famoso poi di Juventus Inter in quell'anno lì Ronaldo secondo me non aveva sì Messi Cristiano Ronaldo quello che volete ma Ronaldo gli vedevi fare delle cose che io non ho mai più visto fare nessuno no sì poi era veramente da solo contro da solo cioè Messi questo più grande giocatore bla 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 però iniesta Xavi Suarez Neymar Ronaldo giocava con Zamorano giocava con Keiko Moriero ottimo giocatore però Keiko Moriero è diverso è diverso la partita come è simbola la semifinale di Coppa UEFA il ritorno Mosca quando fa no per fare una cosa è quello deve la vedere quando lui i complottisti si abbiamo pagato lo Spartax no no ma a parte quello i complottisti secondo me potrebbero dire che c'è stato un buco temporale perché lui a un certo punto nel fango scompare e si rimaterializza dopo i due di c'è un ragazzo nato in una favela di Rio de Janeiro che gioca quei muchi per terra sembrava ci fosse stata la guerra in campo e fa quei dribbling quel modo di giocare scarta al portiere ma sì lui è veramente incredibile devo dire che Ibra è l'unico giocatore di cui ha avuto la figurina e l'idea che il simbolo del Milan sia uno che ha vinto di più con l'Inter che con loro mi fa molto piacere cioè vedemi da la misura ecco 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 vedete che poi dovete venire da noi per trovare il vostro video 10 giugno 2023 10 giugno 2023 ero in Istanbul sono andato a vedere la finale spero che mai più venga organizzata una finale in una città che ha 20 milioni di abitanti una scomodità era unico però dei ricordi bellissimi sul pullman guidato dagli autisti turchi con tutti i tifosi che gli urlavano addosso oh un occhiere apri che ci abbiamo caldo e questo terrorizzato che se sbagli strada a Istanbul poi sono tre ore per tornare indietro non lo dì è un po' come nel tuo libro della parte del Sudafrica alle mondiali più o meno hai paura di non arrivare in tempo noi abbiamo avuto un'esperienza drammatica abbiamo anche però divertentissima perché poi noi la sera diciamo prima della partita eravamo tutti insieme anche noi con un pullman noi di Sky che ci doveva portare a un ristorante e purtroppo l'autista che non era di Istanbul fa quell'errore lì sbaglia strada e si butta in una stradina trafficata e vabbè non esce più no non esce più ma poi lui non sapeva più come uscire quindi noi avevamo Google Map ma lui non lo sapeva leggere e quindi alla fine il problema l'ha risolto Di Canio perché questo non parlava inglese non capiva niente e allora Di Canio si mette lì col telefonino e gli fa ma fai mettete là quando io dico a destra gliene una botta a destra quando io dico sinistra chiede una botta a sinistra e siamo arrivati così destra e io destra una cosa molto romana beh però ecco appunto forse perché il traffico di Istanbul è un miliardo di volte peggio di Roma perché tu pensi vivendo a Roma nulla è peggio di questo ma infinito di più e io ovviamente ho visto la sintesi il commento e tutto non so come sia stato vederla con l'esperienza calcistica che avete voi rispetto io ero in curva gli due errori sul finale sono qualcosa che mi sposa ma ha senso su un campo da calcio cioè perché un giocatore non dico un attaccante strapagato perché un giocatore nella sua carriera come Lukaku in due finali più una partita decisiva per andare avanti in Coppa si trova sulla linea di tiro dei suoi compagni per tre volte due in due finali europei cioè scusami l'autogolp ma che errori di posizionamento fa sembra tipo quelli sono veramente misteri io ti dico la verità che a un certo punto non ci volevo credere cioè che la palla non entrasse non entrasse eh lo so anche perché se l'ha meritata l'Inter poi c'è Beppe che ovviamente soffriva il doppio però non come a Porto quella Beppe lì a Porto è stato lì Beppe era convinto tra l'altro diciamocelo cioè se non passava a Porto cambiava l'allenatore l'Inter quel giorno ah beh sì 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 beh noi Taremi che forse la prendiamo ci ha mandato in fine di Coppa dei Campioni mangiando sì sei gola sì fatti bo invece poi Simone ha dimostrato che invece meritava tantissimo e lì a Porto io ero già convinto io non so perché sentivo lo diceva Beppe se noi prima diciamo ma sarebbe bello fare tutto il cammino nell'Inter perché secondo me arriva in finale e Beppe fa no ma no ma in finale ma no ma no lì a Porto è come c'era a crederci perché la palla non entrava certo e poi io mi esalto con quelle partite della difesa croccata io lo so è quella cosa che in America non puoi spiegare che a me per cui il calcio lo sport europeo e il calcio in particolare sono così speciali che uno 0 a 0 può farti emozionare mille volte di più di un 5 a 3 perché noi siamo medievali è bello quello è l'idea che appunto quando dicono eh ma partite da 0 a 0 che se non capisci niente poverino cioè la storia non è colpa nostra questo tipo di partite sono quelle che proprio quelle che ti rimangono proprio di ma poi è nato mio fratello e mio padre sono stati fra i tanti sei ore in coda trattati malissimo a Porto il coro quello che poi diciamo ha accompagnato l'Inter ancora oggi per la gente che è nato lì è diventato lì il coro dei tifosi non solo della curva quindi sono quelle cose per cui dice ok mi ricordo il 2021 io mi ero sentito in potente perché io mi avvicinavo allo stadio e già mi dicevano che c'erano un sacco di problemi e sai ti chiedo non puoi fare io ti dice che potevo già era un miracolo che facevano il termine perché ma se era un casino tale e che puoi fare niente ecco lì però io poi quando dico che c'è anche ecco tu sei un giochissimo è uno che ti piace solo il gioco così oppure se si vince come si vince va bene da tifoso pazienza dell'Inter se io sono vincendo non vincendo no è ovvio che vedi a giocare bene l'Inter e non ho mai visto l'Inter giocare bene come quella di Sigur Lenzaghi è stupendo ti riempio il cuore ma ma ho voto 1-0 ma va bene quello è il motivo per cui lì servo io come tifoso quando giocano bene e c'è tutto bene servo io come tifoso tutto c'è questa idea che tutti abbiamo che se tu non hai le scarpe giuste Lautaro non si sente tranquillo io sono scaramantico sull'Inter da morire sto cercando un po' di togliere perché mi rendo conto che ho un'età per cui forse il mondo va poi devo placarmi però sì tantissimo sì 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 e essere interista in Roma o mai? è una bella io sono arrivato nel 2006 a Roma quindi quando abbiamo vinto Scudetti uno dietro l'altro tutti contro la Roma quindi ovviamente lo sento come un derby io quando giochiamo con la Roma lo sento proprio ci tengo ad andare al settore ospiti anche perché ho una carriera e ci tengo che prosegua e anche adesso si giocherà in terri vado in curva perché è giusto però no lo sento molto come un derby perché a Roma ovviamente si parla i romanisti i laziali sono spessissimo grandissimi intenditori di calcio ma quando si parla di Roma o Lazio come gli squali buttano indietro gli occhi e non capiscono più niente ed è difficile parlarci scherzo e lo scherzo però insomma ci tengono tantissimo conosco due o tre illuminatissimi tifosi ma so che quando inizia la partita è proprio come noi però un po' di più un po' di più sì 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 perché è proprio perché poi a Roma non si riesce a spiegare che cosa vuol dire il calcio in Roma perché è come se ci fosse poco altro no poi queste radio 24 ore su 24 che io rispetto tantissimo ho iniziato così ho dato la possibilità di lavorare a tantissimi ragazzi che poi hanno fatto carriera e quindi hanno anche le pagine più ironiche sui social romanisti e la zeal cioè è una presa per il culo divertentissimo a volte sfocia anche la violenza storicamente è sfociata in violenza terrificante però la città del papa io quando sono arrivato a Roma a studiare ho visto che è quella città del papa e ci sono infinitamente più santini di totti nei bar e c'erano che crocifissi in giro per la città questo dà un po' la misura nella cosa allora adesso facciamo il giochino della torre pronti questa è tosta già sto vedendo che ci sono alcuni sono facili secondo me alcuni no va bene cominciamo con Samuel De Wall o Ivan Ramiro Cordobas Samuel è uno dei più forti difensori penso centrali stopper della storia Ivan si è fatto degli anni tostissimi con Matrix coppia stupenda però Samuel troppo forte troppo forte bene Jonathan o Schelotto Schelotto per quella antica legge per cui se sei nel derby rimani per sempre che poi l'unica cosa che ho fatto memorabile sì ma fu un derby quello senza di lui erano di ma no Schelotto tutta la vita Jonathan a me le gag quelle rape lì il Gabbiano su quelle rape lì che diventano gag più per Inter poi era proprio un momento in cui si diventava un meme non mi piacciono cioè comunque poi la posta di giocare nell'Inter non è poi Schelotto alla fine era forte perché pochi lo ricordano ha avuto una carriera ha avuto breve sì come Martínez alla Juve è stato proprio stiamo parlando di due laterali per chi non li ricordasse campionato 2007-2008 vinto da Mancini o il campionato 21 vinto da Conte Conte quello di Mancini veramente da veramente da braccino nel tennis brutto momento appunto dicevo di Ibra prima troppo stress troppo brutto quello da Parma no? troppo 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 star male pensai tu io dico quello qui in Parma 2007-2008 c'è tutte queste cose non è solo un fatto di ricordare le cose se ti fai il 5 maggio all'ultima giornata ti vuoi giocare solo ai panini con il salame e la bibita o il campionato questa è bella secondo me c'è sostanza e diciamo immaginifico Re Coba o Snyder come dire il libro il film cioè Snyder per quello che abbiamo vinto ovviamente poi uno che si presenta a Milano appena atterrato si gira e tira da 30 metri al derby e fa gol no Ari gliela ha presa non fa gol però lì con tutto l'infinito amore per l'Inter di Moratti di Re Coba di quegli anni lì ma abbiamo vinto niente quindi e il dolore che abbia giocato fuori ruolo con Cooper per troppo tempo quindi no Snyder Juve o Milan chi odi di più o chi butto dalla torre come dicevo prima Milano Milano e Inter hanno a che fare con loro però la Juve è impossibile è impossibile come fai cioè noi abbiamo tutti giuratori ma noi abbiamo il dovere di esistere per combattere quindi una cosa tipo il ciclo che degli anemi se c'è il derby più importante no no si no ti fai esplodere la torre oppure ti siedi e ti godi l'amichevole che si gioca a loro buonasera ma che piacere trovarmi con lei buonasera ti godi questa cosa Mourinho o Conte? non ci confronto neanche dipinto in nessun luogo dell'universo Conte potrà mai grandissimo professionista ma Giuseppe Mourinho Giuseppe Mourinho Moratti o Zang? eh mamma mia sono nato e cresciuto quando Moratti arrivava nel 95 è stato uno dei primi ricordi per cui ho detto ok questa persona ci porterà in luoghi dell'anima in cui mai avresti pensato di andare quindi per sempre la dinastia Moratti e con l'amore per Zang e l'interbiò oggi bla 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 Quaresma Quaresma detto per Trivela e quindi la differenza perché a Milano Trivela lo vuoi dire se dice Romair Trivela è due altre cose Quaresma o Coutinho? Coutinho no mio fratello è identico a Coutinho la Supercoppa Europea a Monaco con l'Atletico la gente diceva ma perché ma è Coutinho perché non è in campo era molto divertente qua di Quaresma ricordo un ricordo bellissimo Roma-Inter a marzo ci giochiamo scudetto nel 2010 Paolo Di Milito all'ultimo secondo io ero in Montemario più alto mi hanno detto di tutto giustamente ma anche se io non l'ho proferito verbo al palo di Milito mi alzo in piedi sacramentando e quel coglione di Quaresma che ci mette mezz'ora di mettere la palla dopo in campo ha iniziato a insultare Quaresma sfogando 90 minuti di stress su di lui me lo ricorderò sempre per questa cosa Coutinho tutta la vita eh qui sarebbe in difficoltà poi no io no però per motivi diciamo di amicizia Barella o Cuccio Gambiasso quello che ha fatto il Cuccio Barella ha la possibilità di farlo quindi per la storia è ovviamente il Cuccio ma c'è una mia dichiarazione sul famoso giornale sportivo di Colore Rosa quando abbiamo vinto lo scudetto in cui ho detto se vendiamo Barella mi incatero fuori dalla sede è un pareggio Barella è uno di quelli che te salta sì sì in zona Berti in zona quelli poi è molto odiato dagli altri questa cosa come te lo fa di fiere come te o al Milan quindi che loro ne vanno fiere noi lo diamo si va allo stadio sempre per queste cose Barella è mio idolo assoluto Andanovic o Giulio Cesar? Giulio Andanovic ha tenuto in piedi la baracca con davanti delle difese agghiaccianti fortissimo ma racchia uno che si presenta agli ottavi di Coppa dei Campioni con gli occhi pisti dicendo che si è schiantato perché è andato a prendere il gelato in macchina con l'amboghino lasciato all'alba certo perché quando hai bisogno di quel chilo di gelato cioccolato e rocciola devi andare veloce e prende quel gol che stavamo uscendo dalla Champions di Calù come si chiama no no Giulio Giulio ti capito Giulio il tuo commento sulla parata su Messia a Barcellona lui lì ha permesso ma lui è poi è molto simpatico sì sì un po' quella parata in zona Banks Buffon quel tipo di parate Casillas con Robben mondiale ecco quella è un'altra partita tipo quelle che dicevamo della Gattipo Avoporto una gran difesa la difesa a Senna quella partita ha una memoria che fischia all'Inter quando entra in campo un murigno che si mette a centrocampo non segue l'allenamento si gira verso la curva e si mette così a guardare e come a dire sono io l'ombrello ma pensa che bomba un giorno semmai dovreste fare una intro di quelle che fai tu belle aggressive cioè proprio una intro dicendo voi non capite niente tipo se si gioca al Super Bowl che non capite nulla di sport avete bisogno di fare 40 punti se non vi esalti non mangiate questa partita che ne so Milan Inter in Coppa Campione vediamo se deve difendere vale lo 0-0 io poi sono per l'estetica della difesa anche proprio per questo motivo qua io quando c'era un gioco era difensore attaccante quando ero ragazzino io ti mettevi dentro era di rigore chi resisteva di più senza venire il gol io mi divertivo troppo a fare difensore anche perché era una pippa quindi Vieri o Ronaldo il fenomeno non stanno nella stessa categoria in alcun modo Ronaldo il fenomeno per sé per tutto con tutto che vi eri è stato un grandissimo idoneo il coro per lui era un momento proprio di quelli che ha a che fare penso con appunto Riva Chinaglia quei bomber incredibili che abbiamo avuto in Italia amore forte ma ha terminato in maniera cioè Roni è andato al Milan e mi ha spezzato il cuore vabbè l'altro Vieri è andato direttamente al Milan non è una cosa di sì ricordo più volentieri Adriano che salta in testa nel 3-2 che i gol stupendi che gli ho visto fare dal vivo per dire quanto proprio Vieri ha avuto un grandissimo attaccante ma quella scelta lì non si può perdere poi tra l'altro a Milano succede più spesso i passaggi dalla squadra e Pedro l'ultimo non succedeva da millenni forse Manfredoni come no no non direttamente ma a Manfredoni è successo un casino quando la roba prese Manfredoni a Gullo va impazzire a Gullo sono stati anni che fra abbiamo fatto proprio da 3 a 3 li cambiarono Favalli Vellirlo Tippi allo Seder Coco che comunque c'è Coco giusto c'è il suo perché è il ragazzo più bello che abbiamo giocato in Europa quindi comunque ha giocato anche con noi io andavo a trovare a Barcellona ma non Talleni no cosa voglio dire a Francis è veramente molto simpatico allora abbiamo un bussolotto ti estrai domande giochi questo è un po' vai è un misto un fritto misto questa nella prima c'è il nome dell'arbitro di interiore quali sono i minuti in cui ha segnato Milito nella finale contro il Bayern 35-70 ah beh straordinario straordinario abbastanza questa è la numerologia pura proprio sì 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 giorno di esordi di Caviezzanetti ovviamente 95-96 assolutamente il giorno di esordi 95 immagino settembre anche io agosto 27 agosto io qui ci stavi Disneylandia lui aveva una squadra il papà gli aveva fatto che si chiamava Disneylandia perché lui non giocava perché era piccolo anche lui vanno un po' diciamo fatto crescere con il tempo che viene e perciò se ricordo dei miei archivi amati archivi chi è il calciatore che ha realizzato più gol con l'Inter ti ammeazza credo che primo ammeazza giustamente poi c'è dunque l'ho visto c'è Lorenzi in zona adesso è entrato Lautaro Lautaro nei primi dieci ieri al tobelli il secondo spillo al tobelli contro campo battiamo la roba 3-1 piccinini entusiasmi mughini e al tobelli che era lì per l'Inter dice non la prendono più adesso era il 2002 quando abbiamo perso e mi ricordo ma sì che forse queste parole non le direi ti racconto questa aneddota mi ha raccontato Beppe altobelli dice una cosa a Ferri in allenamento non bella Ferri si arrabbia moltissimo altobelli capisce che non tirava buon'aria perché poi Ferri uno serio c'è dei racconti di un sbaglio dei tunnel fatti proprio da Ferri e altobelli incomincia a correre un po' romanzata adesso io te la faccio Beppe era stato più preciso io te la romanzo un po' ferri incomincia a correre e altobelli scappa e Ferri lo insegue finisce l'allenamento loro entrano nello spogliatoio e c'era ancora altobelli e Ferri che lo inseguiva eh guarda quell'Inter lì è quella che purtroppo non ho visto quella di eh sì quella di Trevattoni quella che è 69 preferiresti avere per tutta la vita la capegliatura di Zanetti o quella di Lautaro allora io sono molto sono molto serio cioè i giocatori quando cambiano i capelli tendono a tagliarli in un modo più intelligente ehm per il loro gioco giocano meglio e Lautaro più accorcia il ciuffo se notate più gol fa più gusto il gol sta facendo quindi è chiaro che giocare con quei capelli non ti può aiutare quindi quelli immaculati biondi mai sempre quando si rapano è la miglior cosa per la tua squadra Ibra si rasa alla Juve e diventa fortissimo bisogna sempre poi uno dirà sì ma Ibra con i capelli lunghi fa 8000 gol certo ma col Milan che è un altro problema no però in generale ieri quando si rapano nel 2002 diventa fortissimo quando stanno un po' militare questa è una cosa che è noto sai che l'ha pensato come te Berlusconi certo certo ovvio Berlusconi e Boniberti gli unici Gino là che poteva averli lunghi però in generale più sono Ferguson era uno che rompeva molto su questa cosa quindi io Berlusconi e Ferguson abbiamo questa idea del look ancora un'altra adesso ti dico Lucia a bordo campo di una partita di Coppa Moggi con la Juventus una partita di Coppa importante esce Camoranese con Cerchietto un altro con la coda un altro con la cosa e lui li guarda perché non c'era più questa cosa diciamo la Juventus che devi tagliare i capelli per forza lui li guarda un po' schifato così e fa scusa ma questi sono i nostri o sono i loro? ah è bello cioè questa roba tra i piccoli quella della Juve che arriva c'era un piccolo piuttosto un pittoresco il look l'hanno rimpulito tutto questa cosa qui io ci c'è stata una cosa infatti anche al Milan mi raccontava Rino che appena arrivato al Milan c'erano le foto non hanno messo le foto arriva Berlusconi Fagattuso mi scusi ma questa foto è orrenda la faccia togliere e si taglia i capelli in una maniera mezzo scena allora lui terrorizzato si taglia i capelli e poi ci teneva anche a radersi bene quando era rasato quindi si rate nel lavandino ma per una distrazione non pulisce il lavandino poi dopo che si era rasato lo prende con sta curta per morire noi qui siamo delle persone ordinate e gli fa lavare però però quello contava poi sai c'era Rico Maldini la diceva sempre c'era questa roba che come lo spogliatore del Milan negli ultimi diciamo dieci anni fa si sfalda si sfascia troppo troppo egocentrismo di tutti ovviamente se Maldini uno che i capelli li poteva portare come voleva perché è il più forte giocatore più forte difensore di tutti i tempi senza mai dubbio uno che noi rispettiamo cioè anche troppo però è Maldini questa roba qui un po' conta questa cosa di stare attenti a se no finisce come United che ce ne briga il gol di Anthony bravi questa è una cosa che mi fa più ridere in assoluto l'Ajax che riesce a vendere quel giocatore a quei soldi è uno dei furti del secolo ma tu forse l'avevi detto a qualche parte possibile avessi detto ma perché io per alcuni giocatori non mi trattengo però c'è stato di peggio secondo me che è stato quanto hanno pagato Cucurella ah beh sì al Chelsea già solo uno che si chiama Cucurella ma poi può essere forte no lo scherzo ultimo preferiresti arrivare secondo e andare in Champions League oppure vedere retrocesse nello stesso mondo Juve Milan se mai dovesse avere la fortuna enorme di vedere retrocedere il Milan perché a Juve interessa io farei ho una promessa come per te facciamo l'abbonamento andiamo a vedere il Milan ogni sabato ma questa domanda penso che non esista nessun tifoso dell'Inter o al contrario è che direbbe mai preferire schermare secondo è per sempre la retrocessione dell'altra vale cinque coppe non so tre scudetti vale è troppo è troppo è troppo è troppo bello con la sciarpa del Milan perché alcuni di posti dell'Inter me lo raccontano che l'anno poi famoso quello tu sei veramente proprio neanche nell'immaginazione che tuoi del Milan sì quando ci fu l'apoteosi Milan-Cavese quella è stata una maglia dove ho capito sì sì mio fratello ha chiamato la squadra del fantacalcio capito c'era una cava dei tirreni su un certo affetto è una lunga tradizione poi loro sono i vari Helsingborg Dugano però sai quando giochi qui a San Siro con la capese e perdi qui con l'Helsingborg è un'altra cosa è un po' sì grazie Luca è un super piacere piacere mio tantissimo io veniamo a venire al teatro io lo sai che non manco mai tra l'altro perché trovo che non lo dico perché siamo amici perché sei qui ma il tuo spettacolo è un gioiello di scrittura grazie che no che non è una cosa tanto normale diciamo no perché spesso si parla l'improvvisazione come se fosse una cosa che io sono contrario all'improvvisazione è finta improvvisazione è finta improvvisazione ma soprattutto grande scrittura e grande divertimento grazie mille in bocca al lupo e seguitelo anche su podcast cioè antenna sport antenna sport è veramente gli anni della tv quelli che hai fatto anche tu adesso stiamo attivando tutte le cose non sai che io te lo delicino delle storie degli anni in quegli anni lì anni 80 ci sono delle storie meravigliose ho scritto un libro vicini certo è un libro che si è condotto un libro e cose bellissime abbiamo visto cose che voi neanche immaginate televisioni private si chiamavano perché erano private di tutto ciao amici ciao ciao